Benvenuto! Hai bisogno di aiuto in fase di trasloco? Saggese effettua traslocchi di uffici e abitazioni private garantendovi sicurezza e professionalità nella movimentazione di merci o mobilio. Da oltre 60 anni ti garantiamo la massima tranquillità in tutte le operazioni di trasloco di mobili, nel trasporto di merci e nella movimentazione logistica e intermodale. Entra nella pagina i nostri servizi, deposito di mobili, trasloco di pianoforti, traslochi internazionali e speciali. Tutti i servizi di logistica offerti sono completati da una polizia assicurativa per coprire eventuali imprevisti durante il trasloco. Cosa aspetti? Siamo a Crotone! Contattaci per un preventivo o un consulto. Trovi tutti i recapiti nell'area dove siamo. Saggese, gli esperti del trasloco!